il tavarnello le acque le toste si scontrano nella decima giornata della serie b della champions cup amatori della t league subito in avanti le acque le toste con questo tiro la grande respinta vicino al vantaggio e le acque le toste ancora le acque le toste in avanti e si portano in vantaggio con ancis quindi 1 a 0 le acque le toste arriva quasi il 2 a 0 per le acque le toste ancora le acque le toste che vanno con questa azione concitata il tiro la grande parata poi la ribattuta alta ancora in avanti tutto solo però e c'è le 2 a 0 con la rete di del regno inizia il secondo tempo con questo tiro dietro a vernello chissà chissà se ci sarà la reazione prova ripunizione la smanaccia l'area difensiva delle 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 acque le toste però pro con questo tiro il palo il palo ancora in avanti e ancora vicinissimo al 3 a 0 ancora ancora con questo tiro e sfiora ancora il 3 a 0 le acque le toste padrone del campo ancora vicinissimo al 3 a 0 con questa doppia azione e ci arriva il 3 a 0 con un missile che sinceramente non ho visto quindi grande missile grande gol del 3 a 0 con la doppietta di di ancis prova così anche il tavernello però finisce così le acque le toste vincono meritatamente 3 a 0 contro il tavernello